Ciao a tutti, mi chiamo Lorenzo Leoni, l'inverno faccio il maestro di sci a Madonna di Campiglio ed estate mi occupo di pianificazione forestale. Vi parlo qui della Malga Cengledino, nel comune di Tione, dove l'anno scorso ho fatto l'esperienza del Malgaro e ho sperimentato cosa significa la filiera corta e cos'è la sostenibilità. Ho anche riflettuto sul fatto che il buon pastore è colui che si dedica alla propria manda, al proprio greggio, alla comunità di animali e riflettevo sulla nostra classe politica che invece di prendersi cura della comunità, ha tradito la comunità, si può dire, da sempre. E quindi da qui volevo lanciare un monito ai nostri politici, tratto dalla Sacra Bibbia Ezechiele 34. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto se non pace a se stessi. Non è forse il greggio quello che i pastori devono pascere? Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il greggio. Voi non avete fortificato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato una perduta, non avete dominato su loro con violenza e con asprezza. Noi dei 5 Stelle saremo dei buoni pastori. Ciao.